Ci sono stati alcuni problemi, qualche personaggio, qualche componente della nostra famiglia non ce l'ha fatta. Adesso scopriremo uno dopo l'altro chi c'è e chi non c'è, faremo una specie di appello. Come la montagna! Come la montagna Davide, come la montagna, è vero. I bambini sono molto contenti, però bisogna anche pensare... Come al nord per la neve, per cui sono sicura che a Milano, a Treviso, a Torino, qualcuno sicuramente ci starà un po' prendendo in giro, dirà ma come per due fiocchi di neve? Ebbene, provate a venire a Roma e vi accorgerete della situazione delle strade, della situazione della circolazione, circolazione che veramente pretendeva due ore dove di solito in un quarto d'ora...